Benvenuti in Certina La storia di Certina risale al 1888, quando Adolf e Alfred Kurt fondarono l'azienda Grenken, in Svizzera. Fin dall'inizio, la passione per gli orologi e la precisione svizzera sono state le chiavi del successo dell'azienda. Negli anni 30, Certina si è specializzata nella produzione di orologi impermeabili, diventando uno dei principali produttori di orologi da immersione. Nel 1959, Certina ha lanciato la collezione DS, Double Security, caratterizzata da una resistenza agli urti e alla pressione dell'acqua senza precedenti. Oggi, Certina è conosciuta in tutto il mondo per la sua precisione, affidabilità e carattere sportivo, con una vasta e variegata collezione di orologi in grado di soddisfare le esigenze di tutti i clienti. La collezione di orologi Certina è vasta e variegata, in grado di soddisfare le esigenze di tutti i clienti. La collezione DS, ad esempio, è caratterizzata da un design elegante e sportivo, dotato di funzioni avanzate per gli sportivi. La collezione acqua è invece ideale per gli appassionati di immersioni, grazie alla sua resistenza all'acqua fino a 300 metri. Infine, la collezione Heritage è dedicata agli amanti dei classici orologi svizzeri, con un design vintage e sofisticato. La storia di Certina è la storia di un marchio di orologi svizzero che ha saputo evolversi nel corso degli anni, mantenendo sempre la passione per la precisione e la qualità della lavorazione svizzera. La collezione DS è diventata un'icona del marchio Certina, simbolo della sua capacità di combinare stile e funzionalità in un unico prodotto. Oggi, la vasta e variegata collezione di orologi Certina è in grado di soddisfare le esigenze di tutti i clienti, offrendo un prodotto di altissima qualità e dal carattere sportivo, che rappresenta il meglio della tradizione orologera svizzera.